Le nuove norme sul Super Green Pass hanno costretto Matteo Salvini a rinviare l'assemblea programmatica del partito, la resa dei conti nella Lega è solo rimandata.Il Super Green Pass potrebbe riacutizzare i conflitti all'interno della Lega. Matteo Salvini non è riuscito a imporre le sue richieste nella trattativa nel governo per il nuovo provvedimento, che a partire dal prossimo 6 dicembre imporrà restrizioni ai non vaccinati, consentendo però alle attività commerciali di rimanere aperte. I governatori leghisti avrebbero voluto che il pass potenziato fosse valido a partire dalla zona gialla, ma ha prevalso la strategia della massima precauzione, per tentare di arrestare la risalita dei contagi Covid. Quindi le regole che impediscono ai Novaks di mangiare in bar e ristoranti al chiuso, e di entrare in cinema, teatri e musei, non basta più sottoporsi al tampone, scatteranno già dalla zona bianca. La decisione ha creato tensioni nel governo, ma alla fine la linea di Draghi ha prevalso, Salvini, pur avendo assicurato che i suoi ministri avrebbero disertato il CDM, si è dovuto accontentare di fissare come data limite delle restrizioni il 15 gennaio, invece del 31, e di evitare la riduzione della durata dei tamponi, rimasta a 72 l'ore per i molecolari e a 48 per gli antigenici. Magra consolazione anche l'esclusione del Green Pass per i bambini, altro punto che Salvini può rivendicare. Complessivamente però si tratta dell'ennesimo rospo che il segretario della Lega è stato costretto a ingoiare, alla fine il nuovo decreto è passato all'unanimità in consiglio dei ministri e il Super Green Pass ha introdotto nuove limitazioni per chi non è immunizzato o non ha avuto l'infezione. Grazie per la visione!